Continuano i controlli delle forze di polizia per il rispetto delle norme comportamentali emanate con il decreto Conte su tutto il territorio nazionale. Il rispetto di queste disposizioni che possono sembrare anche una misura draconiana è l'unica arma certa al momento che abbiamo per fermare la diffusione del contagio. Ed è per questo che le forze dell'ordine da alcuni giorni stringono fortemente le maglie dei controlli e scattano anche le prime denunce. Oltre alle tre dell'altro giorno se ne aggiungono altre cinque effettuate dai carabinieri della compagnia di Urbino che ha denunciato a piede libero, secondo l'articolo 650 del codice penale previsto in questi casi, cinque ragazzi a pian di meleto di cui tre minori che imbarba alle regole e soprattutto al buon senso sono andati a fare una partita di basket in un campetto all'aperto ma sono stati anche denunciati per concorso in danneggiamento per aver divelto e spaccato l'insegna che esponeva il divieto di entrare e frequentare l'impianto sportivo e contravvenendo anche a un monito che avevano effettuato sempre i carabinieri di Urbino che li avevano pizzicati a inizio settimana proprio nello stesso campetto ma in questo caso sono stati, è proprio il caso di dire, recidivi. Ma che cosa comporta questo articolo del codice di procedura penale e nei casi più gravi anche il 452 che recita delitti colposi contro la salute pubblica applicati in casi di violazione delle disposizioni del decreto Conte? È l'articolo del codice penale quindi si tratta di un reato, tipo contravvenzionale, che punisce appunto chi contravviene ad un provvedimento legalmente dato dall'autorità giudiziaria in materie tra le quali quelle di igiene e di sicurezza pubblica. Trattandosi di un reato, le pene alle quali il soggetto sono l'arresto fino a tre mesi e l'ammenda fino a 206 euro. Quindi sono due pene, quindi non quelle che comunemente vengono definite molte perché siamo in un ambito appunto penale e questo chiaramente non significa che nel momento in cui ci venisse contestato questo tipo di reato potremmo essere tradotti in carcere perché non è un reato per il quale è prevista la misura cautelare ma verremmo comunque imputati in un procedimento penale per il reato con soluzioni di tipo processuale che poi potrebbero essere diverse. Quindi comunque ecco quello che è bene sapere è che trattandosi di un reato vi sarà poi un procedimento penale ed un'imputazione appunto per questo tipo di violazione. Altro discorso e più grave discorso è quello legato a eventuali dichiarazioni non veritiere che venissero rilasciate all'autorità nel momento in cui venissimo sottoposti a controllo quindi l'autorità che chiaramente per strada dovesse sottoporci a controllo e ci chiedesse le motivazioni per le quali ci siamo allontanati da casa nel caso in cui rilasciassimo dichiarazioni non veritiere si commetterebbe il reato di falso, false dichiarazioni all'autorità giudiziaria che è un reato ben più grave ed è punito con la reclusione dopo 6 anni. Quindi come dire attenzione perché è vero che si parla di autocertificazione cioè ci viene sottoposto un modello con il quale noi siamo liberi di dichiarare ma nel momento in cui quelle dichiarazioni venissero sottoposte come ovviamente potranno essere sottoposti a controllo e dal controllo emergesse una difformità tra quello che è stato dichiarato e le reali poi esigenze o comunque motivazioni dello spostamento e questo costituirebbe un reato che ripeto è un reato di una certa gravità.